quantità di dati, che vuol dire quantità di bit infinite, cioè altissime, per trasferire immagini da una parte all'altra del mondo. E perché si vuole usare la fotonica per trasferire le immagini e le voci, anziché l'elettronica? Perché la fotonica è più veloce, quindi ci permette di fare dei download più veloci. E' più veloce cosa vuol dire? Vuol dire che il risultato è che facciamo dei download più veloci, ma se vogliamo andare un pochino più nell'aspetto fisico, vuol dire che la luce ha una banda maggiore, cioè mi permette sulla stessa frequenza, sulla stessa portante in frequenza, di trasmettere bande più ampie. Ora, qui si comincia chiaramente ad andare su concetti più tecnici, però, per riassumere un po' con parole povere, la fotonica permette di trasferire segnali che portano dentro di sé un maggior numero di bit. E quindi è chiaro che se trasporto è come portare il mio segnale con un camion, cioè con un camion che porta tanti bit o con una macchina piccola dove ce ne stanno pochi. Se ce ne stanno troppo pochi e a me ne servono di più, devo fare più giri e quindi mi serve più tempo. Invece, se ho un mezzo che mi fa stare insieme tanti bit, chiaramente riesco a fare questo trasporto di un numero grande di bit in meno tempo. E questo si traduce appunto in un download più veloce. L'altro vantaggio è che ci permette in tante situazioni di risparmiare energia rispetto alla fotonica, specialmente quando usiamo la fotonica integrata, quindi degli oggetti molto piccoli che per essere alimentati richiedono potenze molto basse. Inoltre, siccome il mezzo che usiamo quando facciamo delle comunicazioni che sfruttano la fotonica è la fibra ottica, che vedremo più nel dettaglio dopo, però vi anticipo che la fibra ottica ha un grande vantaggio come mezzo di comunicazione, diciamo come link di comunicazione, che perde pochissima potenza, mentre invece un cavo elettrico o anche l'aria dove si propagano le onde radio mi fanno perdere parte del segnale durante la strada e quindi io ne devo inviare tanta di energia, perché molta la perdo per strada e quindi per averne una quantità sufficiente poi arrivati a destinazione devo trasmetterne tanta. La fotonica, proprio grazie alle caratteristiche della fibra, che perde pochissima potenza lungo la strada, mi permette di abbassare l'energia trasmessa, quindi ho un risparmio energetico che, sapete tutti, di questi tempi è uno degli argomenti più caldi, riuscire a risparmiare energia per salvare un po' le risorse della Terra. Perché serve trasmettere tanta informazione? Perché si è dedicato così tanta attenzione alla fotonica principalmente per il fatto che mi permette di trasmettere più informazione? Serve davvero tutta questa informazione? Allora, per darvi un'idea, vi ho messo un elenco di applicazioni e quanti dati vengono trasmessi con queste applicazioni in un minuto in tutto il mondo. Per esempio, in un minuto di internet, questi sono dati oltretutto riferiti alla situazione pre-Covid. Come sapete tutti, il Covid ha aumentato tantissimo l'utilizzo di internet e quindi questi numeri, probabilmente se li andiamo a ricercare ora, saranno più che raddoppiati. Io adesso avevo a disposizione i dati pre-Covid, quindi pre-emergenza. In un minuto in tutto il mondo, solo per ricerche internet, si fanno viaggiare circa 640.000 migliaia di bilioni di byte. Ogni byte, sapete, sono 8 bit. Quindi una quantità enorme di bit solo in un minuto in tutto il mondo, solo per le ricerche su web. Se andiamo a vedere YouTube, in un minuto scarichiamo in media 1.3 milioni di clip, che corrispondono a 30 ore di upload, con le velocità di upload che ci sono ora. Ricerche Google, 2 milioni di ricerche in un minuto. Quindi poi in base alla ricerca avrò un numero di bit, di consumo di bit diverso, ma immaginate bene che 2 milioni di ricerche, quindi muovono una quantità di bit, che sono migliaia di, cioè diversi ordini di grandezza superiori al milione. Su Facebook in un minuto abbiamo quasi 2 milioni di pagine visualizzate e circa 300.000 nuovi login ogni minuto. Quindi anche qui capite bene la marea di bit che si muovono. Stessa cosa vale per Twitter, stessi numeri, centinaia di migliaia di nuovi, diciamo, di applicazioni Twitter, Flick è la stessa cosa, 3.000 foto condivise in un minuto e 20 milioni di foto visualizzate sempre in un minuto, quindi sono numeri altissimi in un minuto. 100 nuovi user su LinkedIn al minuto, 61.000 ore di musica al minuto su Pandora, 83.000 dollari spesi su Amazon in un minuto. Questo è il dato che probabilmente, se andiamo a vedere ora, sarà quadruplicato, se non di più. Quindi capite che c'è proprio un reale trasporto e scambio di bit enorme nel mondo e che sta crescendo sempre di più. E vi ho riportato qui un po' quindi l'evoluzione delle tecnologie per poter sostenere tutto questo traffico di bit, che è principalmente la tecnologia 5G, perché la maggior parte di questi bit vengono scambiati, cioè vengono utilizzati da piattaforme mobili, quindi la tecnologia più coinvolta in questo aumento continuo di traffico di bit è la tecnologia wireless, RF wireless, quindi a radiofrequenza wireless, che è appunto la tecnologia, quella che abbiamo chiamato 1G, 2G, 3G, fino a quella corrente che è 5G. E qui avete un po' un'idea dell'evoluzione che c'è stata. Nel 1980, quando sono comparsi i primi telefoni mobili, si parlava di 1G e di fatto si trasferiva solo voce, come dicevo prima, e si viaggiava a qualche kilobit, 2 kilobit al secondo. Poi nel giro di 10 anni si è passati a una velocità di trasmissione di decine di kilobit al secondo e si è cominciato a trasferire non solo voce, ma anche cose molto semplici, tipo giochi o testo, email di testo. Poi in altri 10 anni, intorno al 2000, abbiamo accresciuto la velocità di trasmissione fino a... questa è la velocità che vede l'utente. L'utente poteva viaggiare fino a centinaia di kilobit e si è cominciato a trasmettere anche dei video. Nel 2010, circa, con il 4G, si è passati all'alta definizione, alle video chat, quindi alle applicazioni in tempo reale, e siamo passati a 100 megabit al secondo, perché chiaramente più aumentiamo le applicazioni, quindi più introduciamo tipologie diverse di scambi di dati e più aumentiamo la quantità che serve di bit. fino ad arrivare ai giorni nostri con il 5G, dove oltre a trasferire video, telefonate, giochi, chat in real time, c'è tutta la parte di IoT e di smart city, cioè di controllo remoto degli oggetti. E quindi la crescita dei bit è aumentata ancora di più. e vedete nel grafico di sotto il numero di bit scambiati nel mondo per mese e sono, vedete, nel 2017 erano circa 10 exabyte per mese, l'exabyte dovrebbe essere un 10 alla 18, adesso vado a memoria, potrei sbagliarmi, ma siamo in quell'ordine di grandezza, fino ad arrivare ai giorni nostri con una sessantina di exabyte per mese, quindi cifre enormi. E quindi la caratteristica che determina il 5G, cioè il nostro tempo rispetto al passato, è che oltre a garantire la connessione un po' ovunque disponibile per tutti e in ogni momento, la cosa che è stata aggiunta nel 5G è la connessione non solo tra persone, ma anche tra cose per il controllo remoto, che è quello poi che sta alla base degli IoT e delle smart cities. Di questo è l'elemento in più che caratterizza il 5G e che verrà enfatizzato ancora di più nel 6G, perché a livello di ricerca noi stiamo già lavorando sul 6G, dove oltre a connettere le cose, si parlerà di realtà virtuali, quindi si cercherà di riprodurre in remoto delle situazioni lontane, come può essere un'operazione da remoto, vedete qua un esempio di controllo di una macchina da remoto riproducendo il motore da remoto e questo chiaramente porta ancora più su il numero di bit che servono. Ora perché io sto parlando da 10 minuti di 5G, 6G, che è una tecnologia, abbiamo detto, wireless, che cosa ha a che fare con la fotonica? Ha a che fare perché se il 5G ha certi requirement, ha certe esigenze, che sono quelle che vediamo qua, sono la capacità quindi di trasferire grandi capacità di dati in pochissimo tempo, di controllare un numero enorme di dispositivi, alta velocità di trasmissione, possibilmente con basso costo, perché voglio dare all'utente un oggetto con il più basso costo possibile, se voglio soddisfare tutti questi requisiti, devo in qualche modo utilizzare la fotonica. Ora la fotonica sfrutta la fibra ottica, quindi non è una tecnologia wireless, quindi come si sposa in tutto ciò? Allora per capire come si sposa, torno un attimo indietro e poi riprendo questo discorso, quindi lascio un attimo in sospeso questo collegamento, perché prima di capire come si sposa la fotonica a queste problematiche, devo dire un po' meglio che cos'è la fotonica. Allora andiamo a vedere un pochino meglio, intanto la storia delle comunicazioni, che modi ci sono di comunicare? C'è il modo wireless, cioè attraverso l'aria, che è principalmente le trasmissioni radio, quindi quelle su cui si basa il telefonino, su cui si basava la vecchia radio, e oppure c'è il modo, quello con cacablato, che è quello classico, sfruttando cavi di rame. Queste sono le, che è la tecnologia su cui si basava il vecchio telefono, o su cui si basa il computer fisso, che quindi è connesso tramite cavo. Allora queste sono le due tipologie di link di trasmissione che esistono da tanti decenni. Poi è comparsa la fotonica. Allora, per capire in che cosa si distingue la fotonica, voglio ricordare che un'onda elettromagnetica, che è l'onda che si propaga nei sistemi radio, è di fatto una, diciamo, un'onda sinusoidale a una certa frequenza, dove la frequenza, sapete che è l'inverso del periodo dell'onda. Allora le onde radio sono quelle onde che hanno un valore intorno al megahertz o gigahertz, che vuol dire il megahertz è 10 alla 6 hertz, il gigahertz è 10 alla nonna hertz, e sono le frequenze che noi definiamo onde radio o onde micrometriche. sono quelle utilizzate appunto per il telefono, ma anche per i radar, per diverse applicazioni. Se invece l'onda sale in frequenza, a un certo punto cambia le sue proprietà e non si chiama più onda micrometrica, ma prende il nome di onda ottica, diciamo di onda luminosa. e sono quelle onde che hanno una frequenza che va da qualche terahertz fino al petahertz, che è un terahertz è 10 alla 12 hertz, quindi è quello che sta dopo il gigahertz, il peta è 10 alla 15. Quindi da qualche terahertz fino oltre il petahertz siamo nel range che chiamiamo onde luminose, non più onde radio. Di fatto è sempre un'onda elettromagnetica, quello che cambia è la sua frequenza. Quindi quando parliamo di onde luminose e di onde a microonde o onde radio, stiamo sempre parlando di onde elettromagnetiche che però sfruttano frequenze diverse e cambiando la frequenza cambiano completamente le loro caratteristiche, la loro natura. Le onde luminose quindi sono quelle che vanno nell'intervallo che vi ho detto. Quando noi parliamo di onda luminosa pensiamo sempre alla luce visibile. In realtà le onde luminose non sono tutte visibili, non è la stessa cosa dire onda luminosa o onda visibile. Le onde visibili sono una piccola parte delle onde luminose, della luce. Quindi quella piccola parte che qui vedete, evidenziata qui dove c'è la parte di arcobaleno, quindi intorno dai 700 ai 440 nanometri dove il nanometro è la lunghezza d'onda, quindi la durata del periodo rapportata alla sua frequenza. Quindi siamo comunque nell'ordine di centinaia di terahertz. Quello è l'intervallo visibile. Prima del visibile, in frequenza, cioè per frequenze più basse, abbiamo quella parte di onde che vengono chiamate infrarosso, cioè più piccole, in frequenza della frequenza più piccola delle onde visibili, che è il rosso e quindi vengono chiamate infrarred per questo. E dopo il visibile, invece, per frequenze più alte c'è la regione dell'ultravioletto, cioè le onde che hanno una frequenza più alta di quelle viola, che sono le onde visibili con frequenza più alta. Quindi, diciamo, lo spettro ottico va dall'infrarred all'ultravioletto e solo la parte in mezzo è visibile. Per illuminare, chiaramente, usiamo la parte visibile. Per comunicare, non necessariamente dobbiamo usare la parte visibile, anzi, tipicamente, usiamo l'infrarred, in particolare, siamo intorno ai 100-180 Terahertz e usiamo quella particolare zona delle onde ottiche perché lì la fibra ottica funziona un pochino meglio. Quindi, questa slide ve la faccio vedere per menzionare il fatto che l'onda luminosa è di fatto sempre un'onda elettromagnetica come quella a microonde, ma ha solo una frequenza più alta. Se andiamo a vedere come si può descrivere un'onda luminosa, allora, o la descrivo appunto come un'onda che ha una frequenza nell'ordine che abbiamo detto, oppure la luce la posso anche vedere secondo la teoria corpuscolare come un insieme di corpi elementari che sono i fotoni. Cioè, il fotone è la parte più piccola di... è un quanto di energia luminosa, il quanto più piccolo di energia luminosa. Per cui, un flusso di luce oltre che vederlo come un'onda con una soffrequenza la posso vedere come tanti fotoni, quindi come tante particelle minime che non si possono scomporre. e questi fotoni nascono dalla materia di fatto, da particolari tipi di materia in cui gli atomi hanno degli elettroni che per qualche motivo decadono da un livello energetico più alto a un livello energetico più basso rilasciando, sapete che quando si va su livelli energetici, quando l'elettrone passa da un'orbita più lontana a un'orbita più vicina al nucleo, si dice che passa da un livello energetico più alto a uno più basso perché più si avvicina al suo nucleo più perde energia e l'energia che perde la rilascia sotto forma di fotone. E questo è importante perché è alla base del processo per generare luce. quindi un generatore di luce e il più diffuso è il laser quello che comunemente si chiama laser dove laser è un acronimo che sta per Light Amplification by Simulated Emission of Radiation il laser si basa proprio su questo fatto che gli elettroni sotto certe condizioni passano da un livello energetico più alto a uno più basso rilasciando fotoni. Allora se io riesco a creare un materiale dove tutti gli atomi hanno elettroni che possono fare questo processo e in qualche modo tengo libero l'orbita più vicina al nucleo dove voglio spostare elettroni e tengo piena l'orbita più lontana quella energia più alta in modo che ci siano sempre elettroni pronti a decadere sul livello all'energia più bassa io riesco a creare un flusso continuo di fotoni se poi in qualche modo riesco a creare un processo avalanga ottengo dei laser cioè dei generatori di fotoni anche con grande efficienza cosa vuol dire creare un effetto avalanga vuol dire che tipicamente gli elettroni possono passare da un livello di energia più alto a uno più basso in modo spontaneo generando fotoni questo però avviene con un'efficienza abbastanza bassa però si è visto che se io stimolo un elettrone con un fotone è più facile che questo elettrone diciamo si si ecciti e decada al livello più basso di energia rilasciando un altro fotone quindi se io riesco ad innescare in modo spontaneo la generazione di questi fotoni e poi in qualche modo li faccio ritornare nel materiale magari mettendo degli specchi che li fanno tornare indietro questi fotoni a loro volta possono stimolare altri elettroni ad emettere nuovi fotoni e questo innesca un processo avalanga che mi permette di avere delle buonissime efficienze di generazione di luce e appunto nasce così il laser dove appunto a questo punto si può capire il nome cioè un'emissione di radiazione luminosa ottenuta per amplificazione dei fotoni per effetto di una stimolazione e questo processo e quindi l'amplificazione è il processo avalanga che genero e la stimolazione è data dal fatto che io faccio tornare indietro i pochi fotoni che nascono spontaneamente per andare a stimolare nuove generazioni di fotoni quindi in questo modo ottengo delle sorgenti luminose e saper realizzare delle sorgenti luminose quali laser è quello che poi ha dato il via allo sviluppo della fotonica poi basandosi su un principio base della luce che è quello della rifrazione si è scoperto che la luce si propaga benissimo nella fibra ottica il fenomeno della rifrazione immagino ve lo ricordiate tutti è comunque è quel fenomeno che quando la luce incontra una divisione tra due mezzi a densità diversa cambia direzione e sotto particolari condizioni c'è una legge che definisce questo cambio di rifrazione che è la legge di Snell quindi c'è un rapporto tra l'angolo diciamo di viaggio della luce e l'indice di rifrazione del mezzo se scelgo opportunamente gli indici di rifrazione del mezzo cioè la densità dei mezzi riesco ad avere una una riflessione totale della luce cioè la luce anziché entrare nel secondo mezzo torna indietro e questo è il scusa scusate torna indietro sì scusate va bene torna indietro questo è il il principio che sta alla base della propagazione in fibra ottica perché perché intanto che cos'è la fibra ottica la fibra ottica è è un cavo che è che è fatto da due cavi concentrici uno chiamato core che è molto più denso e l'altro chiamato cladding che è meno denso e poi c'è un terzo un terzo cavo che però è solo di protezione che si chiama jacket ma è solo protezione la luce non viaggia lì dentro non ha nessun ruolo diciamo per guidare la propagazione cosa succede quando io inietto luce nella parte centrale del cavo quindi nel core nella parte più densa se io inietto luce nella parte più densa questa luce se ho scelto accuratamente le densità di core e cladding quando arriva all'interfaccia core cladding invece di uscire di andarsi a propagare nel cladding viene completamente riflessa e questo fenomeno si ripete continuamente quindi la luce la potete vedere come una pallina cioè il fotone lo potete vedere come una pallina che continua a rimbalzare sulle pareti del core e questo rimbalzo ce l'ho grazie alla legge di Snell scegliendo opportunamente le densità di core cladding in questo modo la luce resta confinata nel core e si propaga e non esce mai non esce neanche se io piego la fibra e gli applico delle curve la luce continua a seguire diciamo il core per effetto di queste continue riflessioni totali e quindi non è necessario che io inietto luce lungo l'asse della fibra posso iniettarla più o meno in qualsiasi direzione perché poi una volta che è dentro comincia questo fenomeno questi continui fenomeni di riflessione che me la tengono incastrata lì dentro e le dimensioni della fibra adesso qui io le ho raffigurate grandi ma in realtà la fibra è molto piccola il core ha tipicamente le dimensioni a un raggio di 5 micrometri il cladding invece ha un raggio di circa 120 micrometri quindi sono dimensioni molto molto piccole è equivalente a un capello adesso lì nella foto la vedete ma c'è già qualche strato di protezione plastica perché se vedeste solo la fibra core più cladding la vedreste più sottile di un capello quindi la fibra permette di trasportare la luce dove volete perché la luce resta ingabbiata dentro e si propaga lungo la fibra qualsiasi direzione abbia ora siccome è molto piccola la fibra si fa molto fatica a capire che cosa succede dentro allora c'è un modo che su me è molto simpatico e lo riporto sempre per rappresentare in modo macroscopico quello che succede dentro la fibra per capire meglio qual è il processo di propagazione della luce e questo modo è quello di emulare una fibra cioè i due i due cavi concentrici uno più denso e uno meno denso creando un flusso di acqua nell'aria perché in questo modo c'è un flusso di acqua che di fatto rappresenta il core che è più denso e avvolto dal cledding che in questo caso è l'aria meno denso quindi riusciamo ad avere lo stesso comportamento della luce che avremmo in una fibra e quindi vi invito a vedere questo video che secondo me è molto interessante che proprio fa vedere in modo macroscopico l'andamento della luce in una fibra scusate devo far partire per questo esperimento serve una bottiglia di plastica piena d'acqua con un piccolo foro a metà altezza una bacinella per raccogliere l'acqua che esce dal foro e uno schermo per visualizzare la luce di un laser che si propaga attraverso la bottiglia in questo momento questo è il puntino di luce emesso da questo laser il laser è puntato per far propagare la luce attraverso la bottiglia e farla fuoriuscire direttamente dal foro che si trova nella parte opposta andiamo ora a vedere cosa cambia la luce del laser che si propaga attraverso la bottiglia quando il tappo è chiuso e quindi non esce acqua dal foro e quando invece svitiamo il tappo della bottiglia per fuoriuscire acqua dal foro finché non esce acqua dal foro la luce si propaga attraverso la bottiglia e colpisce lo schermo di fronte potete vedere il puntino giallo di luce sullo schermo questo avviene perché la luce arriva nel foro a incontrare l'interfaccia aria-acqua in modo perpendicolare e può quindi superare tale interfaccia quando invece si svita il tappo l'acqua comincia a fuoriuscire dal foro della bottiglia creando un flusso curvilineo di acqua in questo modo la luce arriva all'interfaccia aria-acqua non più perpendicolare ma in modo obliquo in queste condizioni la luce non riesce a superare l'interfaccia aria-acqua ma viene riflessa indietro rimanendo intrappolata nel flusso di acqua infatti possiamo vedere il puntino giallo della luce non più sullo schermo ma in fondo alla bacinella muovendo il flusso di acqua smuove di conseguenza anche il puntino giallo di luce si può inoltre intravedere nel flusso di acqua il percorso della luce la luce compie come una serie di rimbalzi ogni volta che arriva all'estremità del flusso di acqua rimanendo all'interno del flusso stesso ma i rimbalzi sono dovuti all'interfaccia aria-acqua che costringono la luce a tornare indietro anziché a uscire dal flusso di acqua in questo modo è possibile la propagazione della luce lungo questa specie di tubo di acqua similmente a quanto avviene nella fibra ecco quindi in questo video appunto si vede come la luce grazie a queste riflessioni totali una cosa che non avevo menzionato prima era che il fatto di avere riflessione totale o rifrazione chiaramente dipende dalla direzione con cui la luce arriva all'interfaccia infatti nel video si vede che finché ci arriva in modo ortogonale può attraversare l'interfaccia nel momento in cui ci arriva in modo obliquo come avviene in una fibra non riesce più a superarlo questo sempre per la legge di Snell che appunto lega l'angolo di incidenza con l'angolo di riflessione o rifrazione in modo dipendente dagli indici di rifrazione la fibra oltre ad avere questo vantaggio che riesce a intrappolare la luce e a portarla dove vuole ha il grosso vantaggio che costa poco rispetto per esempio al cavo di rame che è il mezzo invece che si usava prima della fibra costa poco perché è fatta di silicio il silicio è il materiale della sabbia del vetro è uno dei materiali più frequenti presenti in più grande quantità sulla terra per cui ha un costo praticamente nullo mentre il rame chiaramente è un metallo prezioso e se andiamo a vedere il rapporto di prezzo abbiamo che un chilometro di rame costa quanto? 50 chilometri di fibra quindi capite c'è un fattore 50 nel costo e quindi questo è un grosso vantaggio della fibra rispetto al cavo di rame e essendo poi molto piccola e flessibile la fibra è più facile da installare in modo molto meno costoso quindi anche questo è un grosso vantaggio ha una bassissima perdita come anticipavo prima per cui ci permette di fare dei collegamenti molto molto lunghi perché è chiaro che se io perdo potenza lungo la strada dopo un po' ne ho troppa poca per andare avanti se vado avanti perdo completamente il segnale lo affogo nel rumore il fatto invece che non perdo potenza lungo la strada implica che posso fare tanta strada e infatti esistono collegamenti per esempio tra Londra e New York più di 6.000 km fatti senza nessun rigeneratore o amplificatore nel mezzo c'è il trasmettitore a Londra e il ricevitore a New York e in mezzo c'è solo fibra inoltre inoltre la fibra ha il grosso vantaggio che sta alla base di tutto che riesce a trasmettere una quantità di informazione molto molto più ampia del cavo di rame che cos'è l'informazione nella fibra cioè io trasmetto un'onda luminosa dove la metto l'informazione l'informazione la posso mettere in tanti modi la posso codificare in tanti modi nella fibra il più semplice è codificarlo nell'ampiezza della luce nell'intensità della luce cioè se io voglio trasmettere una sequenza di bit ora sto facendo il caso più semplice in realtà ora ci sono trasmissioni molto più complesse ma il caso più semplice è che se voglio trasmettere una sequenza di bit e di zeri basta che associ al bit 1 e al bit 0 due livelli di intensità di luce diversi nel caso più semplice non trasmetto luce quando voglio trasmettere uno zero trasmetto luce quando voglio trasmettere un uno quindi faccio una serie di impulsi di luce ogni volta che c'è un impulso è un uno per tutto il tempo che non c'è luce vuol dire che ho zeri quindi io divido il tempo in intervalli ogni intervallo corrisponde a un bit e se in quell'intervallo accendo la luce vuol dire trasmetto un uno altrimenti trasmetto uno zero e la cosa bella della fibra è che io posso accendere e spegnere la luce a una velocità altissima più alta di quella che riesco a fare nel cavo di rame quindi riesco a trasmettere quindi magari in un secondo molti più bit che nel cavo di rame proprio perché riesco ad accendere e a spegnere cioè a dedicare a ogni bit un tempo minore inoltre la fibra permette di di mandare via tanti segnali tante tante sequenze di bit a diverse frequenze e molto di più che il cavo perché la fibra ha un intervallo di frequenze in cui funziona bene molto molto ampio quindi io posso mandare via sequenze di bit su tantissime frequenze quindi posso vedere la fibra come un'autostrada con tantissime corsie in ogni corsia viaggia una sequenza di bit e le sequenze viaggiano molto più veloce che nel cavo di rame quindi questi due vantaggi la velocità e il numero di corsie mi permette di crescere molto il numero totale di bit che riesco a trasmettere se col cavo di rame arrivo a decine di milioni di bit al secondo con la fibra arrivo a decine di migliaia di milioni di bit al secondo quindi vedete abbiamo 6-7 bit 6-7 zeri in più nel numero di bit che riesco a trasmettere questo è il vantaggio diciamo principale per cui si usa la fibra ma riassumendoli la fibra permette quindi di andare più veloce costa di meno si installa più facilmente e permette di fare dei link dei collegamenti più lunghi quindi vedete ci sono tantissimi vantaggi nell'usare la fibra rispetto al cavo di rame ora però torniamo al discorso di prima perché si parla di 5G in un seminario di fotonica perché come si allora gli utenti vogliono la maggior parte degli utenti vogliono da un oggetto mobile che può essere uno smartphone o un computer comunicare da una parte all'altra del mondo come si fa a far viaggiare ogni informazione da una parte all'altra del mondo la rete di comunicazione che serve è divisa su tre livelli il primo livello è la rete di core la chiamano o di backbone che è una rete a lunga distanza cioè è una serie di link di collegamenti tra stazioni base stazioni tra centrali diciamo che sono poste molto lontane una dall'altra quindi serve questa rete serve per collegare un continente all'altro una nazione all'altra una grande città ad un'altra grande città sono reti che hanno delle distanze tipiche maggiori di 100 km e chiaramente trasportano una quantità di bit esagerata perché è chiaro che un collegamento sottomarino per esempio che va da New York a Londra deve trasportare tutte le informazioni della diciamo degli utenti che sono nella zona di New York e che devono viaggiare verso l'Europa e viceversa quindi il numero di utenti è che deve servire è enorme allora questa rete è fatta tutta in fibra ottica perché è il mezzo che ci permette di trasportare meglio più segnali quindi vedete qui per esempio c'è una mappa di tutti i collegamenti sottomarini che esistono al mondo vedete che ce ne sono tanti il collegamento sottomarino è il collegamento a lunga distanza per eccellenza vedete anche invece a livello Italia questa è la rete di fibre ottica installate sull'Italia quindi sono tutte reti a lunga distanza queste sopra diciamo a servizio questa rete di core a lunga distanza serve una miriade di reti metropolitane chiamate metropolitane perché hanno le dimensioni tipiche di una città quindi pochi chilometri che servono quindi un numero minore di utenti quindi vuol dire che ogni nodo della mia rete di core si collega poi a una rete metropolitana dove il traffico viaggia un pochino più lento perché essendo più ristretta come area serve un numero minore di utenti e per esempio questa è la rete metropolitana per esempio di Milano cioè tutte le fibre installate almeno non so se sono tutte o solo quelle di un di un di un provider e che copre la zona metropolitana di New York ogni rete metropolitana poi serve tantissime reti di accesso che sono delle reti più confinate della città hanno tipicamente delle distanze sotto il chilometro quindi ogni ogni rete di accesso ha una sua centrale che sono quelle che poi vanno a collegarsi direttamente con l'utente quindi un utente A che deve parlare con l'utente B che supponiamo che l'utente A è in questa rete di accesso quindi lasciatemi mettere la penna la penna allora se avete un utente A in questa rete di accesso che deve comunicare con un utente B in quest'altra rete di accesso il segnale dell'utente A dovrà viaggiare sulla rete di accesso andare sulla sua rete metropolitana e poi spostarsi nell'altra rete di accesso dove è presente il destinatario se addirittura l'utente destinatario appartiene ad una rete di accesso di un'altra rete metropolitana allora il segnale deve viaggiare dalla rete di accesso dell'utente A alla rete metropolitana alla rete di core per tornare alla rete metropolitana dell'utente B e poi alla sua rete di accesso quindi deve passare tutti i livelli di reti la rete metropolitana ho scordato di dire prima anche questa ha bisogno di una quantità di dati per cui deve essere tutta cablata in fibra anche questa altrimenti non riuscirebbe a sostenere il traffico la rete di accesso deve finire wireless perché l'utente vuole il segnale wireless quindi la rete di accesso può avere la fibra fino a un certo punto ma poi deve diventare wireless per cui qui ritorno a dirvi qual è il collegamento tra la fotonica e il 5G allora il 5G è il servizio wireless che però per funzionare sotto ha la fibra l'utente non la vede perché l'utente ha lo smartphone ma il suo segnale arriva wireless alla prima stazione base e poi da lì viaggia sulle reti metro e corre con la fibra quindi se io voglio migliorare le prestazioni del 5G devo tutta l'infrastruttura che ci sta dietro dove la fotonica quindi rappresenta una tecnologia indispensabile oltretutto recentemente questa è oltretutto la mia materia di ricerca più specifica si è scoperto che la fotonica può anche aiutare nelle comunicazioni wireless ma in che modo la comunicazione wireless rimane wireless però può aiutare diciamo dietro le antenne per generare e ricevere i segnali e questo uso della fotonica per generare e ricevere o manipolare in qualche modo i segnali RF viene chiamata microwave fotonics ed è una disciplina degli ultimi 15 anni 20 anni e viene e che cosa vuol dire utilizzare la fotonica per i segnali per i segnali a microwave vuol dire che dietro l'antenna e invece di avere un circuito elettrico che diciamo dal segnale digitale mi crea mi genera il segnale analogico alla frequenza opportuna che voglio mandare al telefonino avrò una parte di questo circuito che vado a rimpiazzare con un circuito fotonico cioè vuol dire che il mio segnale a un certo punto io dal dominio elettronico lo porto nel dominio ottico lo elaboro per farlo diciamo adatto a quello che poi voglio trasmettere e poi lo riporto nel dominio elettronico e ci sono diversi vantaggi per fare questo un primo vantaggio è la capacità della fotonica di distribuire i segnali RF quindi se io voglio trasmettere per esempio lo stesso segnale da due antenne lo stesso segnale RF da due antenne o lo genero due volte in prossimità delle due antenne oppure se lo voglio generare una volta sola non posso usare un cavo per poi portarlo alle due antenne se queste antenne sono lontane tra di loro perché il cavo me lo distorce troppo il cavo può essere usato per brevi tratti specialmente alle frequenze alte del 5G per cui se lo voglio distribuire su diverse antenne lo devo portare nel dominio ottico distribuire e riportare nel dominio elettrico quindi qui uso la fotonica per la distribuzione ma la fotonica la posso usare anche per la generazione dei segnali perché nella generazione mi dà prestazioni migliori e agilità in frequenza per cui quello che faccio è nel mio trasmettitore o ricevitore invece di avere la parte digitale poi l'elaborazione elettronica l'amplificazione e l'antenna cambio in questo modo dalla parte digitale passo in elettronico dall'elettronico passo in ottico elaboro in ottico il segnale lo preparo per poi riportarlo in RF amplificarlo e mandarlo via questo mi permette di avere dei benefici ora non sto naturalmente a dirvi dettagli perché sennò staremo qua dieci giorni però sappiate che questo porta dei vantaggi la fotonica poi può anche portare dei vantaggi nel fare alcune trasformazioni particolari dei segnali RF in particolare per sagomare il fascio il fascio che trasmette un'antenna per poi arrivare al telefonino ha una sua forma e una sua direzione e ci sono diversi motivi che portano a dire che dobbiamo controllare la forma del fascio per esempio se io so già dov'è l'utente che voglio raggiungere devo avere un fascio dell'antenna stretto verso l'utente in modo da aumentare l'energia che arriva all'utente e non sprecarne in direzioni in cui non ho utenti e se poi voglio inseguirlo l'utente perché l'utente si muove devo poter controllare la direzione del fascio per esempio nel caso di un satellite che vuole comunicare con un aereo quindi ci sono nel 5G tantissimi motivi per tenere sotto controllo la forma del fascio questo avviene usando degli array di antenne e delle reti di beamforming che adesso non sto a dirvi come sono fatte però se le faccio in ottico ho la capacità di controllare meglio il fascio e in modo più veloce che per il 5G è molto molto importante perché se io lo controllo velocemente inseguo degli utenti che vanno veloci come per esempio un aereo e permetto quindi una buona connessione anche da un aereo e infine la fotonica a volte dà vantaggi di miniaturizzazione rispetto alla tecnologia radiofrequenza quindi soprattutto quando uso la fotonica integrata che ormai è una tecnologia abbastanza matura non tanto quanto l'elettronica e mi permette di fare delle cose anche molto complesse su chip piccolissimi quindi a questo punto ho risposta alla domanda che mi ero fatta prima cosa c'entra la fotonica con il 5G c'entra su due livelli c'entra perché il 5G sotto alla base ha delle reti che funzionano in fibra ottica e c'entra perché la fotonica mi permette anche di manipolare i segnali a radiofrequenza prima di trasmetterli e quindi migliorando le prestazioni infine ci sono anche molte applicazioni in cui la fotonica è usata lei stessa per trasmissioni wireless cioè senza la fibra ottica perché non è spettamente necessario usare la fibra ottica diciamo che la fibra ottica mi permette di fare tanta strada se uso lo spazio libero la luce nello spazio libero specie in atmosfera soffre molto funziona meglio il segnale radiofrequenza nello spazio libero però specialmente su brevi distanze può funzionare anche la fotonica e ha qualche vantaggio qual è il vantaggio di usare in free space la fotonica rispetto alla radiofrequenza ha il vantaggio che va più veloce e resta più confinata il fascio di luce e non è sensibile alle interferenze elettromagnetiche quindi viene usata spesso per applicazioni indoor quindi a cortissimo raggio per esempio in ambienti dove ci sono tante apparecchiature a radiofrequenza che non voglio disturbare come per esempio in una sala operatoria in una sala operatoria non è pensabile di mettere una wifi perché darebbe fastidio allora le comunicazioni wireless che servono tra gli strumenti si fanno in ottica con quello che viene chiamato l'i-fi cioè luce senza fili non radiofrequenza senza fili e quindi ci sono molte applicazioni in cui questo aspetto è importante e viene utilizzata la luce un altro scenario in cui la luce in free space viene utilizzata è sott'acqua perché sott'acqua il wifi non funziona funzionano solo le onde acustiche però la luce funziona non benissimo ci sono tante limitazioni quindi non posso fare tanta strada neanche qua però funziona meglio di tante altre tecnologie per cui viene in molti scenari viene applicato però la luce come si diceva prima non è solo comunicazione è molto di più fino a qualche anno fa veniva usata solo per le comunicazioni ora viene usata in ambito medico in ambito spazio in ambito industriale in ambito energetico in che modo viene utilizzata quindi non per comunicare ma viene utilizzata più che altro o come sensore o come altro tipo di mezzo che adesso vediamo un pochino o più nel dettaglio e in particolare in quasi tutte le altre applicazioni la luce anzi che essere usata come metodo di trasporto dei segnali di comunicazione viene usata per fare del sensing cioè per fare dei sensori e ci sono due tipologie di sensori che posso fare con la luce sensori distribuiti che sfruttano la fibra o sensori remoti cioè che non hanno bisogno del contatto allora i primi sensori si utilizza la fibra come sensore si installa una fibra e poi gli si lancia dentro un segnale una luce questa luce viene in parte trasmessa e una piccola parte viene riflessa indietro questo è sempre vero solo che la parte che viene riflessa indietro è molto piccola quindi nelle comunicazioni è considerata una perdita e pace nei sensori la voglio sfruttare quella piccola perdita che è piccolissima vado a vedere le caratteristiche della luce che mi viene riflessa e si è scoperto che queste caratteristiche in frequenza in ampiezza in ritardo dipendono in particolar modo da due caratteristiche della fibra dalla temperatura e dalle tensioni a cui è soggetta la fibra per cui analizzando il segnale riflesso io riesco a ricavare la temperatura della fibra e se ci sono dei particolari punti di stress della fibra quindi capite che questo mi permette di fare un sensore distribuito per capire se in certi punti ci sono delle variazioni di temperatura o se ci sono delle variazioni di tensione e questo ha tantissime applicazioni perché io posso andare a rivelare per esempio la presenza di incendi in certi stati questo si fa per esempio installando una fibra lungo una galleria se c'è un incendio in un punto della galleria in quel punto la fibra che sarà opportunamente cablata con delle protezioni quindi non si spezza subito aumenta solo la sua temperatura per effetto del fuoco quindi io andando ad analizzare il segnale riflesso capisco che in quel punto della fibra c'è un aumento fortissimo della temperatura e quindi ci deve essere probabilmente un incendio questa tipologia di sensoristica la stessa cosa per uno stress se c'è un punto in cui la fibra non so è caduto un masso e quindi la fibra viene stressata di più che altrove io lo capisco guardando il segnale riflesso quindi queste tipologie di sensori vengono utilizzati per esempio nelle centrali per l'estrazione dell'olio scusate del petrolio mettendo delle fibre anche sottomarine per andare a vedere se ci sono punti in cui si sviluppano appunto incendi o per esempio nelle centrali termiche per capire anche qui se ci sono punti in cui possono scatenarsi incendi o se ci sono aumenti di pressione nelle gallerie o lungo i binari come vi dicevo per capire se ci sono problemi meccanici o problemi di incendi oppure per monitorare delle strutture come degli edifici io metto o dei ponti metto delle fibre lungo le pareti dell'edificio se ci sono dei movimenti dell'edificio la fibra viene tirata maggiormente e io mi accorgo che c'è uno stress maggiore nella fibra stessa cosa appunto come dicevo prima per i ponti se c'è un cedimento del ponte il ponte si è mosso leggermente la fibra in quel punto verrà tirata di più e quindi me ne accorgo andando a vedere l'attenzione associata al segnale riflesso questi sensori però possono essere utilizzati anche in ambito medico in ambito medico le fibre vengono usate dentro degli endoscopi per andare anche lì a verificare per esempio o nei condotti venosi o in altri tipi di condotti per capire quello che sta succedendo e lì la fibra viene utilizzata sia come sensore sia come mezzo che porta la luce in fondo alla fibra ci si può mettere una telecamera e quindi abbiamo degli endoscopi che portano più fibre alcune per sensore altre per portare un segnale di una telecamera e questi sono sono tutti esempi per esempio per l'analisi dei bronchi del cuore e così via e queste cose si fanno già in medicina sono già applicazioni reali un'altra applicazione invece della fibra della luce è la tomografia per esempio in questo caso la luce non viene usata come sensore distribuito tramite una fibra ma viene lanciato un fascio di luce sulla retina analizzando quello che torna indietro capisco lo stato di salute della retina quindi qui la luce viene usata come sensore remoto sensore remoto cosa vuol dire che io mando via un fascio di luce questo incontra un oggetto viene riflesso indietro io analizzando il segnale che viene riflesso indietro capisco qualcosa dell'oggetto che me l'ha riflesso questo è il caso di un sensore remoto cioè io non lo tocco l'oggetto con la fibra lo devo toccare io i binari li devo toccare con la fibra per capire per usare la fibra come sensore qui invece no e ci sono tantissime applicazioni per questo tipo di applicazione quindi la luce utilizzata come sensore remoto in questo caso la luce questo strumento prende il nome di lidar il lidar è un fascio di luce che colpisce un oggetto e andando ad analizzare in quanto tempo la luce torna indietro io prima di tutto riesco a capire la distanza dell'oggetto perché la distanza dell'oggetto sarà il tempo che ci ha messo la luce ad andare a colpirlo e a tornare indietro per la velocità diviso 2 quindi il lidar che è un laser che io uso per fare rivelazioni di distanze e di presenza di oggetti quindi si chiama lidar dall'acronimo light detection and ranging è un laser che io uso per andare a studiare dei target in modo molto simile a quello che fa il radar solo che il radar lo fa con un'onda a radiofrequenza il lidar lo fa con un'onda ottica con un'onda luminosa e quindi misura la distanza ma così come il radar può misurare anche la velocità dell'oggetto può permettermi di fare imaging perché io se il lidar poi lo muovo quindi il fascio di luce rispetto al fascio a radiofrequenza che usa il radar è molto molto confinato è puntuale quindi se io poi lo muovo riesco a fare un imaging di un oggetto lo muovo sul piano e vedete per esempio questa mano che si muove è stata ottenuta con un lidar il lidar guarda la mano e per ogni posizione della mano ho fatto tutta la scansione del piano quindi questo è un lidar che si muove molto veloce ora poi la mano si muoveva probabilmente più lentamente qui è stato accelerato quindi il lidar mi permette di vedere se c'è un oggetto di fare un imaging che può essere anche molto spinto perché il lidar è molto molto preciso e di studiare anche delle proprietà dell'oggetto stesso perché a seconda dell'oggetto che vado a colpire l'oggetto mi assorbe o riflette la luce in modo diverso quindi io andando ad analizzare quanta luce mi torna indietro alle diverse frequenze posso capire di che oggetto si tratta perché ci sono dei database che mi dicono per esempio qui vedete le curve di assorbimento e quindi diciamo l'opposto della curva di riflessione di materiali diversi dalla pelle umana a diverse tipologie di vegetali quindi quando io guardo con un lidar un oggetto e muovo il lidar sia nello spazio per fare la scansione ma anche in frequenza per vedere come cambia la riflettività dell'oggetto in frequenza posso poi andare a riconoscere curve che ho in un database per capire di che oggetto si tratta quindi il lidar sfrutta la luce in modo molto potente che mi dà tantissime informazioni sull'oggetto che colpisce e il lidar è un oggetto molto più giovane rispetto al radar è nato negli anni 60 erano oggetti enormi che sono stati studiati per applicazioni spazio oggi gli oggetti sono diventati molto più piccoli lo vedete qui un lidar commerciale e il mercato che tira di più per il lidar non è più solo lo spazio ma è l'automotive perché il lidar viene usato come sensore sulle macchine per fare imaging sia verso altri pianeti ma anche verso la terra quindi la fotonica nello spazio viene usata per un duplice motivo per le comunicazioni quindi per il 5G per tutte le comunicazioni satellitari e anche per questo sensing cioè per questo tipo di imaging fatto con il lidar e sono riportati qui alcuni esempi questi di imaging fatto dallo spazio con un lidar vedete che è molto molto preciso sembrano delle foto in realtà sono delle rivelazioni fatte con il lidar muovendo il lidar chiaramente nello spazio ogni pixel è una rivelazione lidar cioè per ogni pixel io mando via un impulso di luce e analizzo il suo eco questo per ogni pixel dell'immagine la stessa cosa la posso fare non necessariamente dallo spazio ma anche da drone da aereo viene usato moltissimo in ambito agricoltura per esempio oppure per fare della cartografia sempre anche qui specialmente da aereo e da drone oppure viene usato anche in ambito industriale per esempio per guardare gli oggetti su un nasco trasportatore e capire la qualità dell'oggetto stesso per esempio con il lidar io capisco nel caso della foto dove ci sono dei pomodori io capisco se il pomodoro è maturo perché se il pomodoro è maturo è rosso e riflette in un certo modo se il pomodoro è acerbo è verde e riflette in un modo diverso quindi io analizzando il segnale che mi torna indietro riesco a identificare lo stato di maturità del pomodoro viene usato anche per fare metereologia specie dallo spazio ma anche da terra io vado a punto le nuvole colpisco le nuvole con il lidar e da quello che torna indietro capisco il livello di umidità della nuvola e il livello di densità della nuvola e riesco a capire quindi tante cose che poi si vanno a riflettere su condizioni meteorologiche oppure come accennavo prima l'automotive che è diventato il mercato di riferimento che sta spingendo lo sviluppo dei lidar attualmente perché tante macchine mettono il lidar sulla macchina non tutte in realtà per esempio la Tesla non usa il lidar perché non usa il lidar perché il lidar ha tanti vantaggi è molto molto preciso rispetto al radar perché l'alternativa al lidar è o una camera o un radar il radar è meno preciso perché il fascio radar si allarga molto facilmente quindi io vado a colpire illumino un'area molto più ampia e dentro l'area che illumino non ho più risoluzione mentre invece il lidar mi va a fare proprio una scansione precisa dell'oggetto però il lidar è molto sensibile alla presenza di umidità nell'aria in particolare l'umidità in aria riflette indietro la luce quindi se l'ambiente è molto umido il lidar non si propaga viene tutto riflesso indietro per cui se funziona molto bene in una giornata di sole funziona molto male o addirittura non funziona in condizioni di forte nebbia o forte pioggia quindi molte macchine comunque l'hanno installato perché perlomeno affiancato a una camera per la precisione che dà che è migliore di tutti la Tesla e la Nissan per esempio hanno deciso invece di non usarlo e usano solo camere e radar le camere sembrano più precise ma in realtà la telecamera è un sensore passivo è molto più sensibile ai disturbi esterni all'accecamento del sole per cui in realtà non è sempre meglio di un lidar il lidar viene usato sia per fare sensoristica sulla macchina ma anche per fare sensoristica da terra verso le macchine e controllare per esempio zone di incroci e quindi possiamo dire che la fotonica nell'automotive ad oggi sta diventando veramente pervasiva perché viene usata per i lidar ma viene usata anche per comunicare in modo per esempio wireless tra terra e macchina ma in particolare tra le macchine c'è tutto uno studio per usare la luce dei fari delle macchine per comunicare ci sono chiaramente vantaggi e svantaggi ma è una tecnologia che comunque sta prendendo piede la fotonica poi viene anche utilizzata nella robotica viene utilizzata sia per fare sensori ottici anche in fibra distribuiti sia per fare imaging tramite i lidar quindi i robot generalmente hanno dei lidar on board come sensore di riferimento per fare imaging e viene usata tantissimo anche in ambito difesa viene usato sia per le comunicazioni che per fare sensori remoti tipo lidar e in più in ambito difesa la fotonica viene usata per i visori notturni e per le termocamere ora io qui non voglio stare a spiegarvi come funzionano però sono diversi dai lidar sono diversi dalle camere il visore notturno si basa sull'effetto termoelettrico le termocamere si basano sull'emissione spontanea di energia termica di ogni corpo che dipende dalla temperatura però in entrambi i casi diciamo l'onda che si propaga è un'onda luminosa quindi rientra sotto il cappello di cotonica anche il visore notturno alla termocamera e con questi visori o termocamere si possono per esempio rivelare attività illegali passaggio di persone quindi sono molto molto utilizzati infine mi sembra che questa no non è l'ultima è la penultima un'altra applicazione è le applicazioni di taglio della fotonica cioè laser di potenza cioè molto molto potenti si parla di kilowatt megawatt vengono usati per tagliare materiali duri con grandi precisioni ed è una tecnologia già in uso da molti anni quindi in questo caso la luce non viene usata né per comunicare né per fare sensori ma viene usata come attrezzo di taglio viene usata poi tramite camere anche questa applicazione l'ho riportata perché è del nostro istituto è un'applicazione che hanno proposto nel nostro istituto viene utilizzata per fare per diciamo supportare anche il primo soccorso tramite delle camere quindi come avete visto ci sono tantissime applicazioni che alcune magari un po' più lontane come quelle sparte alcune che entrano proprio in casa nostra qui ho riportato un po' di esempi di oggetti di uso praticamente comune anche se ora stanno diventando un po' retro questi oggetti e che appartengono alla nostra vita quotidiana che sfruttano la fotonica o come sensore o per fare imaging o per comunicare che sono diciamo le tre le tre funzionalità principali che la fotonica ci permette di compiere e quindi voglio concludere il seminario facendovi fare una meditazione per capire quanto la fotonica è nella nostra vita anche se a volte non ce ne accorgiamo di come sarebbe la nostra vita se non ci fosse la fotonica se non ci fosse la fotonica non ci sarebbero gli smartphone perché abbiamo visto sono alla base la quantità di dati che richiede uno smartphone non ci sarebbe disponibile se non ci fosse la fotonica quindi già dalla sveglia vi accorgereste che non c'è la fotonica perché non potreste usare lo smartphone come sveglia ma una classica sveglia meccanica il televisore non sarebbe il televisore digitale satellitare che sfrutta diciamo i segnali satellitari a scuola non si userebbero i computer perché il computer anche lui connesso in rete è possibile grazie alla fotonica si userebbero solo le lavagne e non si userebbe internet per cercare le informazioni per studiare ma si dovrebbe andare in libreria non si ascolterebbe la musica con lo smartphone ma con i vecchi giradischi quando andate a comprare qualcosa non si potrebbe usare la carta di credito perché anche la carta di credito sfrutta dei sensori ottici per la lettura della carta quindi si pagherebbe con i soldi in contanti dovreste scrivere con la macchina da scrivere perché non esisterebbe il computer quindi tantissime cose non si potrebbero fare che invece si possono fare con la fotonica quindi la vostra la nostra vita attuale che ormai se dovessimo fare un quadro della nostra vita prenderemo una persona alla scrivania con un computer uno smartphone e un tablet vicino ormai è questo il simbolo della nostra vita questo è possibile solo perché c'è la fotonica e c'è la fotonica ma soprattutto si è sviluppata la fotonica integrata che ci permette di fare le cose più piccole che consumano meno più affidabili e quindi ci permette di usare la fotonica non solo nelle grandi centrali ma anche nei dispositivi nei droni nei satelliti negli aerei e sono queste piattaforme mobili poi che permettono la situazione che abbiamo ora del 5G delle smart city e così via e questo quindi concludo dicendo che la parte di comunicazioni del TECIP lavora su questo quindi ha realizzato una foundry che fa chip fotonici e ha dei laboratori a livello di sistema in modo da poter studiare soluzioni fotoniche per tutte le applicazioni che vi ho spiegato sia a livello proprio di sistema quindi si va a studiare come realizzare una cosa a livello di principio la simuliamo l'analizziamo capiamo come deve essere implementata e poi la implementiamo anche su fotonica integrata e poi realizziamo dei sistemi completi che poi andiamo a testare anche su campo quindi questo è un po' il lavoro che facciamo riguardo la fotonica e questo conclude il seminario e i concetti che vi volevo spiegare non so se sono stata chiara spero di avervi dato un'idea di insieme perlomeno se avete qualche domanda sono disponibile io avrei una curiosità dica si è esplorata la possibilità di fare SAR con con un LiDAR o infatti cioè immagino che sia una cosa complicata e che non si possa fare no no in realtà quello il SAR è di fatto un radar che si muove su un satellite la stessa cosa si fa con i LiDAR l'imaging che vi ho fatto vedere delle città quelli erano immagini fatte con LiDAR da satellite quindi di fatto un LiDAR che si muove e che mentre si muove fa anche una scansione così come fa il radar il radar il SAR è un radar che si muove sul satellite e mentre si muove fa una scansione nella direzione ortogonale in vari modi si può fare la scansione e va a fare un imaging su una striscia di terra la stessa cosa si fa con il LiDAR ci sono delle difficoltà aggiuntive a farlo con il LiDAR che sono quelle dovute appunto a come si propaga la luce nell'atmosfera quindi col fatto che se c'è una giornata nuvolosa il LiDAR non arriva a terra o se ci arriva poi non arriva al satellite l'eco perché viene tutto riflesso scatterato dalle particelle di acqua sospese nell'atria quindi l'imaging LiDAR che corrisponde al SAR viene fatto solo sotto certe condizioni però è anche l'unico che ci permette quando funziona di avere delle risoluzioni veramente spinte che il radar riesce ad avere facendo tante passate perché il radar di suo ha una risoluzione molto meno spinta e questo è una cosa fisica non si può superare e la cosa fisica è che il fascio a radiofrequenza si allarga molto di più di quanto si allarga quello di luce resta molto meno confinato quindi io non ho risoluzione oltre la dimensione del fascio nel momento in cui illumino con il fascio una zona il target può essere in qualsiasi punto e per me è la stessa cosa quindi oltre la dimensione del fascio io non riesco ad andare come risoluzione però con il radar per avviare a questo problema fanno per esempio tante passate da più punti di vista e poi via processing riescono ad avere una maggiore accuratezza però questo porta via tempo vuol dire che per fare un imaging preciso mi servono magari 4-5 passate un satellite ripassa nella stessa zona dopo qualche ora per cui mi può servire anche qualche giorno per fare un imaging preciso il lidar no però deve arrivarci e quindi non sempre ci arriva il lidar viene usato molto di più per fare un imaging spaziale cioè se voglio andare a vedere o per esempio un pianeta quindi nel deep space nello spazio profondo oppure per andare a vedere una sonda o un altro satellite perché lì siamo nel vuoto per cui la luce si propaga molto molto bene quindi non ho gli svantaggi ho solo i vantaggi della luce rispetto alle radiofrequenze infatti per fare imaging per esempio su Marte e su Venere quelle poche cose che hanno fatto le hanno fatte con dei lidar ok grazie prego ci sono altre domande? comunque se poi avete dei dubbi vi vengono delle curiosità potete sempre contattarmi per email mi sembra che si stiano organizzando anche un ciclo di visite e quindi potete venire qui vedere un po' le cose i laboratori secondo me sono molto interessanti perché sono insomma c'è strumentazione all'avanguardia quindi penso sia abbastanza interessante se interessa l'argomento insomma quindi se non ci sono altre domande io mi fermerai qui vi ringrazio spero insomma che sia stato utile e resto a disposizione se avete curiosità quindi vi auguro buona serata a tutti grazie mille buona serata buona serata grazie buona serata arrivederci buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti